Sì, noi da subito dopo il crollo siamo saliti alla sera con il nostro geologo per vedere la situazione successivamente sono risaliti loro per valutare un attimino quanto è successo in effetti è successo quello che temavamo nel senso che è caduto il masso gigantesco con la frana che credo tutti hanno visto e si sono soprattutto resi conto dell'effettivo pericolo che c'era e quindi della prudenza che noi abbiamo sempre tenuto perché la vita umana non ha costi la parte sopra si è aperta trascinando del materiale del materiale che è instabile la prima parte di operazione che avevamo fatto di legature, di sistemazione per quanto riguarda la parte destra guardando in alto ha tenuto il georadar ha ripreso a funzionare quindi abbiamo un riscontro che per intanto appunto è tutto fermo la parte alta andremo a inserire ancora degli estensimetri per cui ci servono due o tre giorni ma comunque abbiamo deciso oggi di poter aprire già la finestra a mezzogiorno con una presenza visiva sul posto che ci garantisca la possibilità di passare in sicurezza fatto salvo ovviamente massi singoli che possono comunque sempre cadere di dimensioni ovviamente ridotte quindi un rischio accettabile la riapertura quindi definitiva della strada H24 al momento non è ipotizzabile ma c'è una previsione entro quando si ritornerà effettivamente alla normalità? Sì, ieri sera abbiamo fatto un incontro con la direzione lavori con il geologo e con la ditta proprio per capire questi aspetti e in effetti bisogna ancora fare delle legature proprio in alto nella ulteriore nicchia di frana che si è creata e completare il monitoraggio ma quello lo fanno in tempo record nel senso che due o tre giorni è a posto posizionare una rete superficiale per il contenimento diciamo del materiale fine c'è molta terra in alto e dove c'è l'affioramento di roccia creare una barriera paramassi che ci garantisca la possibilità di poter poi ampliare quelle che sono il discorso delle finestre il lavoro è proporzionale all'apertura della strada quindi io presumo che piano piano intanto si passa e piano piano si aumenteranno i tempi delle finestre fino ad arrivare all'apertura completa in questi otto giorni di isolamento non sono mai mancati i soccorsi sanitari gli approvvigionamenti però è possibile anche dire che le comunità di Madesimo e di Campodolcino erano un po' al limite e non per l'attività economica ma proprio anche per se stesse ad esempio il teleriscaldamento sì in effetti questi ultimi otto giorni di totale chiusura quindi ha fatto sì che allora dal punto di vista della questione sanitaria noi abbiamo sempre avuto comunque garanzie di copertura con l'elicottero quindi arrivo per le emergenze la possibilità del medico sul posto qualche disguido come in tutte le cose purtroppo può sempre capitare ma ci siamo garantiti sotto questo punto di vista già all'inizio della settimana abbiamo fatto dei voli di elicottero per le derate alimentari per i freschi innanzitutto stamattina ne facevano un altro indipendentemente poi dal fatto dell'apertura che comunque è susseguita perché anche lì ci siamo mossi celermente nel momento in cui avevamo le garanzie le possibilità l'abbiamo fatto certo il teleriscaldamento ormai è al limite il discorso del distributore che ormai aveva chiuso però li abbiamo già avvisati quindi sono già partiti certo delle sofferenze ci sono state però bisogna anche capire che la situazione richiedeva prudenza relativamente al fatto di questa frana che guardandola in alto sembrava insignificante ma credo e ribadisco quando l'hanno vista scendere che penso che tutti si siano resi conto effettivamente del grande pericolo che abbiamo corso la frana quando è scesa ha fatto veramente una cosa miracolosa è partita da un punto e poi si è girata verso valle per risparmiare andare nel punto del vallo che era più capiente sì diciamo che anche in questo caso le opere preventive che comunque sono state fatte perché poi in questi giorni di ingegneri e di geologi ne abbiamo sentiti parecchi tra la popolazione però i lavori preventivi erano stati fatti il monitoraggio era stato fatto ed è quello che ci ha dato garanzie per poterci muovere il fatto che il vallo sia riuscito a contenere tutto il materiale chiaramente ha svolto pienamente il suo ruolo io direi scienza e tecnica e qualcosa di un po' più grande hanno permesso che non succedesse niente diciamo di importante a valle sia sulla strada sia sul santuario sia sulle case adiacenti sì qualche piccolo come dire imprevisto c'è stato ma fa parte insomma di 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 un crollo di questo genere io l'ho vista partire in diretta e la parte in alto come pensavamo si è girata verso destra proprio nel momento in cui è partita e questa deviazione ha fatto sì che il tutto andasse nella parte più ampia e più larga del vallo ma comunque fuori dalla traiettoria della chiesa e qui fa parte ognuno della propria coscienza del proprio modo di vivere e di pensare io che ho visto devo dire che mi vengono i brividi solamente a raccontarlo nel senso che quando abbiamo visto tutto il polverone e tutto il resto e successivamente ci siamo avvicinati per vedere cosa fosse successo abbiamo visto prima spuntare il campanile poi la parte della chiesa insomma ci ha riempito insomma di gioia anche il vedere è che tutto si sia sistemato insomma per quanto riguarda lo stato di emergenza a che punto siamo l'iter è pronto quali sono i prossimi passaggi stato di emergenza sì è stato consegnato tutto sembra che finalmente il governo possa partire quindi nella prima riunione di consigli e ministri ovviamente passerà lo stato di emergenza questo indubbiamente ci dà garanzia sull'accelerazione di quelle che possono essere tutta la parte dell'iter burocratico per continuare a sistemare quello che dobbiamo ancora sistemare perché innanzitutto non è finito e poi bisogna cominciare a ricostruire quindi anche su quello credo che ci darà sicuramente una mano devo ringraziare il prefetto devo ringraziare il presidente della regione Lombardia Tiglio Fontana e tutti i suoi collaboratori degli assessori e direttori del settore perché ci hanno dato una grande mano in questo momento di grossa difficoltà Presidente cosa si sente di dire oggi alle comunità di Madesimo di Campodolcino e di Lirone di San Giacomo Filippo lei è anche sindaco di questo ultimo comune sì nel senso che piano piano stiamo riportandoci verso la normalità abbiamo avuto un periodo duro di una prova abbastanza significativa insomma però sia le istituzioni sia diciamo tutta la parte del volontariato ha cercato di fare il proprio lavoro fino in fondo e ribadisco senza mettere a rischio mai nessuno questo è un motivo da un lato di orgoglio ma dall'altro anche di risposta seria e coerente per quello che è la gestione della parte pubblica sulla nostra valle che purtroppo è soggetta a queste cose ci sarà il tempo successivamente per fare tutta una serie di ragionamenti e di ulteriori monitoraggi perché purtroppo la nostra valle è soggetta a questi crolli grazie a tutti